Gli è mai stato chiesto da bambini cosa vuoi fare da grande? A me sì, e ho cambiato mestiere quasi ogni anno, fino a quando all'età di nove anni la mia foto fu messa su un album delle figurine, così che risposi con certezza, voglio fare la pallavolista. In realtà anche se la pallavolo mi ha accompagnato per parecchi anni, anche con questo mestiere mi sbagliavo. Il nome della squadra in cui giocavo però, Le Byte, era un acronimo sì di Le Bimbe Terribili, ma se ci pensate è anche un'unità di misura informatica della capacità di memoria di un computer, quindi ha fatto un po' da segno premonitore diciamo del mio futuro da ingegnere. In realtà cosa fare da grande è una scelta che ho maturato nel corso degli anni. Dopo il liceo scientifico scelsi di proseguire gli studi in ingegneria civile. Da una parte mi piacevano le discipline scientifiche, avevo sempre un libro in mano e poi mi piaceva anche l'idea di trovare una soluzione concreta a problemi reali. E dall'altra ingegneria civile offriva molte prospettive nel mercato del lavoro. Ed è così che scelsi quella strada e proprio durante la preparazione della tesi di laurea che ci fu la svolta. La mia tesi riguardava lo studio di perdite idriche, in particolare i tipi di tubazioni. E l'idea di studiare l'acqua, che è una risorsa preziosa per il pianeta, combinando sia aspetti teorici sia aspetti più pratici, mi entusiasmò. Poi il mio relatore mi parlò addirittura della possibilità di presentare i miei risultati di tesi ancora prima di laurearmi ad un congresso internazionale in Sudafrica. Immaginate l'emozione, il primo viaggio da sola molto lontano da casa, ma anche la prima presentazione in inglese di fronte a un pubblico esperto di esperti accademici. Però fu bellissimo, ebbi la possibilità di presentare i miei risultati, le mie idee a persone di diversa formazione, di diversa cultura, nazione. E così capì che quella era la strada giusta. Proseguì gli studi dopo la laurea, non gli studi di magia, come potreste immaginare guardando quest'abito che indossavo di cerimonia, ma gli studi di dottorato che appunto completai discutando la tesi nel 2014, e poi dopo una serie di contratti sia all'estero che in Italia di venire circatrice nel 2019 presso l'Università di Pavia. Ma ora la domanda è, cosa serve per fare il ricercatore? E voglio rispondere a questa domanda facendo un parallelismo, forse ne avete sentito parlare, addirittura visto, film d'animazione, l'era glaciale. Cioè in questo film c'è un buffo scoiattolino di nome Scrat, lui ama le ghiande e ha una missione, quella di raccogliere una ghianda. E adesso non voglio offendere i miei colleghi ricercatori se li paragono a uno scoiattolo, ma è un esempio molto semplice e chiaro. Come Scrat anche il ricercatore ha una missione, quella di dare un contributo alla scienza, può essere piccolo o grande che sia, ma per compiere un progresso per l'umanità. Pensate, questo contributo può essere ad esempio un nuovo metodo sperimentale, una nuova teoria, un nuovo farmaco, una nuova tecnologia, un modello matematico. Ma quello che conta è che per compiere questa missione occorrono tre ingredienti chiave e questi ce li insegna appunto il nostro amico Scrat. Primo ingrediente, la curiosità. Pensate, Scrat è uno scoiattolino curioso, lui cerca ovunque, annusa ovunque pur di trovare la sua ghianda. E così come Scrat, anche per il ricercatore, la curiosità è vitale. Ad esempio, Galileo ci racconta nel Saggiatore una favola. In questa favola c'è un uomo che è sì molto intelligente, ma soprattutto molto curioso e lui vuole conoscere l'origine dei suoni. Pensava infatti che i suoni avessero origine solo dagli uccelli. In realtà scopre durante questa indagine che i suoni hanno origine anche dalle cicale, dai mosconi, addirittura dalle porte. Quindi questa favola ci insegna che la conoscenza è inesauribile e quindi il ricercatore deve sempre guardare il mondo circostante con una mente aperta, creativa e soprattutto curiosa. Però essendo instabile deve essere anche in grado di mettere sempre in discussione quello che sa. Ed è appunto questa mente aperta, creativa, curiosa, che ha portato a scoperte rivoluzionari nel corso della storia. Ad esempio, sapete come sono stati scoperti i raggi X? Beh, per caso. C'era appunto l'8 novembre del 1895, il fisico tedesco Röntgen era nel suo laboratorio completamente al buio e stava studiando dei particolari tipi di fenomeni luminosi in particolari tipi di tubi. E quello che osservò è un bagliore su uno schermo posto a distanza da questi tubi. Quindi incuriosito da questo fenomeno decise di approfondirlo. Addirittura ruolò anche la moglie nei suoi esperimenti. E quello che scoprì è che questi bagliori erano dovuti a dei raggi invisibili, che appunto chiamò X per la misteriosa origine. E questi raggi erano in grado di penetrare la carta, il legno, ma non il piombo. E soprattutto approfondendo e sostituendo lo schermo con una lastra fotografica, fu in grado di eseguire la prima radiografia della mano della moglie nella storia e questo gli valse anche il primo primo Nobel per la fisica del 1901. Quindi capite come il ricercatore deve essere curioso, quindi cercare, e più cerca più trova ciò che gli piace. Quindi il secondo ingrediente chiave di un ricercatore è la passione. Pensiamo sempre al nostro amico Scratt, lui ama le ghiande ed è proprio l'amore per le ghiande che lo spinge a cercarle continuamente. E così la passione è vitale per un ricercatore e lo spinge al suo motore quotidiano. Quindi ricollegandoci appunto, Leonardo da Vinci, lui aveva questa passione per il volo. E questa passione lo spinse ad applicare le sue conoscenze per la prima volta pur di mettere le ali all'uovo. E arrivò addirittura a progettare il primo paracadute nella storia, che fu addirittura testato negli anni 2000 da un inglese, Nicholas, che si lanciò a 3000 metri di altezza in Sudafrica e per fortuna ebbe successo. E quindi come Leonardo, anch'io sono un ricercatore, quindi ho la mia passione. E questa passione non sono i fiori, anche se in realtà mi piacciono tanto i fiori, ma sono i materiali. Sono una componente fondamentale della nostra vita quotidiana. Ma cosa hanno a che fare i fiori con i materiali? Se ci pensate in questo esempio, vedete uno dei tanti grandiosi esempi di meccanismo di funzionamento presente in natura. dei fiori che si aprono e si chiudono passando dal giorno alla notte. E ora pensate ai materiali. La scienza, l'ingegneria, la tecnologia dei materiali ha progredito talmente tanto che noi possiamo realizzare dei materiali su misura, in base alle nostre esigenze. E ad esempio ci sono materiali cosiddetti intelligenti, sia materiali che rispondono a stimoli esterni modificando le loro proprietà. Come lo vedete in questo video, sono un materiale che risponde a un semplice stimolo ottico generato da una luce led che appunto si apre e si chiude come un fiore. E quindi quello che io faccio è appunto sviluppare modelli teorici, matematici, spesso integrati anche in codici di calcolo, per capire la relazione tra la struttura del materiale, il processo di fabbricazione, di manifattura e le proprietà finali. E quindi puoi sfruttare questa comprensione per risolvere problemi. Pensate ad esempio al futuro acceleratore di particelle del CERN a Ginevra. È un ambiente altamente radiattivo. La presenza dell'uomo è molto pericolosa per attività ad esempio di manutenzione, di installazione dei vari dispositivi connessi. E quindi la possibilità di utilizzare materiali intelligenti che sono controllabili da remoto tramite stimoli esterni è di fondamentale importanza per ridurre la presenza dell'uomo in questi ambienti. E quindi capite come anche comprendere il comportamento di questi materiali per poi ottimizzare il loro uso è importante. Però il bello della ricerca è che è libertà, libertà di ampliare i propri orizzonti. Dovete sapere che io in realtà mi piaceva sia dal liceo anche le scienze mediche, la biologia e quindi avevo anche superato i test d'ingresso a medicina, ero stata ammessa, poi il mio spirito da ingegnere ha prevalso nella scelta finale. Ma la ricerca mi permette anche di ampliare argomenti in queste discipline che sono ben lontani dalla mia formazione originale di ingegnere civile. E quindi ad esempio io studio l'applicazione dei materiali che sto considerando per risolvere problematiche anche in queste discipline. E quindi colleghiamoci ricercatore, curioso, cerca ovunque, trova la sua passione ma è inevitabile trovare difficoltà. E in questo ci colleghiamo all'ultimo, il terzo ma anche il più importante ingrediente che è la tenacia. Pensiamo a chi non ha mai trovato dei problemi di fronte a sé dei muri, sia nella vita che nel lavoro. Pensiamo sempre a Scrat, lui è uno scoiattolino, lui incontra tantissime avversità ma lui procede in perterrito per la sua strada, lui anche con simpatica testardaggine, lui trova delle soluzioni. E così è nel mondo della ricerca. Noi pensiamo ad esempio il lavoro del ricercatore spesso non ha orari, lavoriamo anche nei weekend, la sera, durante le festività. Poi i fondi sono pochi, sono limitati, c'è molta competizione. Spesso i test sperimentali non vengono, modelli matematici che non colgono bene il problema, il fenomeno reale. E poi la precarietà purtroppo non aiuta in tutto questo. e mettetevi ora anche nei panni di un ricercatore donna. I problemi ovviamente sono ancora maggiori, quindi la possibilità, io stessa ero chiamata la ragazza con la valigia. Si viaggia molto nel mondo della ricerca e appunto per il numero di ore che passavo su un aereo o su una macchina. E poi ci sono ovviamente discipline che richiedono anche presenze periodiche o costanti in laboratorio. e questo ovviamente fa sì che ci siano anche stereotipi legati al contesto culturale. C'è un test disegno uno scienziato che viene proposto ai bambini e alle bambine per capirne la loro visione dello scienziato e della scienziata. Questo stesso è stato, c'è stato uno studio pubblicato nel 2018 dal mille recautori che hanno analizzato più di 20.000 test eseguiti tra gli Stati Uniti e il Canada su 20.000 appunto disegni. E quello che ne è emerso è che solamente il 28% considera la possibilità di uno scienziato donna. E questo ovviamente ha influenza anche sul numero di donne nella ricerca, specialmente nel campo dove lavoro io, quindi i campi STEM, quelli di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. E se questo era chiaro ad esempio nel 1911 dove le donne erano, dove Marie Curie era l'unica donna presente al primo congresso Solveig a Bruxelles, ora i dati purtroppo sono ancora preoccupanti. Ve lo capiamo ad esempio guardando, confrontando i dati forniti a marzo 2021 dal nostro Ministero dell'Istruzione. Confrentano la carriera accademica nelle aree STEM tra uomini e donne. E quello di vario per le più alte cariche accademiche è notevole. Passiamo dal 21% di donne al 79% di uomini come professori ordinari in quest'ambito, nel 2019 in particolare. E questo ci insegna che qualcosa deve essere fatto, ma non solo per la ricerca, ma anche per le donne nella ricerca. E quindi come fare a saltare questo muro? Voglio rispondere con questa frase della nostra grande scienziata Rita Levi Montalcini. Le difficoltà della vita sono una potenzialità della vita. Occorre imparare dagli errori, dai fallimenti e farne tesoro. E soprattutto occorre lavorare con tenacia e quindi mettersi sempre in gioco e credere fortemente in se stessi e anche nelle proprie idee. Quindi, riassumendo, la nostra domanda iniziale era cosa serve per fare il ricercatore? Allora, fare il ricercatore è una scelta, l'avete capito, coraggiosa, sia per uomini che per donne. Comporta dei sacrifici. Ma, pensate, dare un contributo comunque alla scienza, all'umanità è di fondamentale importanza e regala anche molte soddisfazioni. E quindi, però, non è sufficiente avere intelligenza, metodo scientifico, anche fortuna, quella serve sempre. Ma occorre lavorare sodo con curiosità, passione e tenacia. E aggiungo anche un altro ingrediente che invece mi ha insegnato la pallavolo, che è il gioco di squadra. Occorre, appunto, lavorare insieme, i problemi ci sono e sono altamente multidisciplinari, quindi imparare dal passato, dalle proprie figure di riferimento, sia che siano allenatori, docenti di riferimento, compagni di squadra o colleghi. Grazie a tutti per l'attenzione.